ecco il passo della presolana ecco qua passeggiata in tempi di covid è tutto fermo di sabato piste da sci questa è una pista da sci la seggiovia cielo plumbeo sta nevicando è un posto suggestivo di là dritto di qua si arriva a un rifugio dove poi scendendo da lì si vede il lago di seo dall'alto c'è una roba pazzesca ma data la foschia non si poteva fare questo molto molto suggestivo un po alla shining ma anche molto molto carino dai